Il covid dalle due facce da una parte i casi continuano ad aumentare da metà settembre anche se ad un ritmo più lento di due settimane fa. Oggi i nuovi casi sono 45.705,66 morti e stando all'analisi della Fondazione Gimbe negli ultimi sette giorni i contagi sono cresciuti del 20,3% meno rispetto al più 34% del 29 settembre e soprattutto al 52% del 6 ottobre in aumento i casi gravi ma dall'altro versante i ricoveri e i decessi continuano invece a salire interpretare questo doppio binario che la pandemia ha preso in questi giorni non è semplice forse è diventata più rara l'abitudine di effettuare un tampone ufficiale e che molti sintomi siano trascurati o diagnosticati con un tampone fai da te ma oltre a questo gli esperti suppongono che il virus abbia ripreso virulenza o che forse i vaccinati abbiano perso parte della protezione infine l'incognita varianti ci si chiede da tempo se una nuova variante non abbia cominciato a circolare sotto traccia intanto le vaccinazioni nonostante le indicazioni proseguono a rilento infatti è meno del 7% la percentuale di chi ha effettuato la quarta dose